Buon pomeriggio ragazzi, si è conclusa la partita tra Empoli e Milan con la vittoria esterna dei Rossoneri per 0-3. Una prestazione subito presa in mano dai Rossoneri e gestita molto molto bene. Infatti trova subito il gol all'undicesimo del primo tempo con una bella sfurghiata dalla sinistra di Leao che salta il suo diretto avversario e mettendo la palla al centro subito lì al limite dell'area all'altezza della lunetta dell'area di rigore Loftus-Cheek centra l'angolino basso alla sinistra del portiere. Prestazione bella, pulita del Milan e con carattere. Purtroppo al 35esimo, l'inesimo infortunio, Florenzi sente un dolorino all'aduttore, quindi ancora a livello muscolare e chiede un cambio precauzionale. Pioli fa entrare Gimenez e anche il subentrato si comporta molto molto bene. Partita che poi finisce il primo tempo sul 2-0, ben gestita. Nel secondo tempo si vede all'inizio un po' di Empoli ma il Milan comunque gestisce bene la partita. Nel finale vediamo il terzo gol del Milan per opera del subentrato Traoré. Quello che mi è piaciuto è che tutta la squadra l'ho vista molto unita. Infatti anche al gol di Traoré, Leao e tutti hanno fatto un grosso abbraccio. Questo mi piace, bisogna trovare continuità e squadra ragazzi. Il migliore in campo è Teo Hernandez, Loftus-Cic e Giroud con un 7. Subito dopo comunque Leao e buona parte della squadra. Il peggiore in campo secondo me è che darei un 5,5 e Adli. Lo vedo ancora lento e a volte troppo scontato. Questo è un guaio ragazzi perché adesso bisogna fare in modo che Adli prenda fiducia perché abbiamo bisogno di lui. Se il mercato poi dovesse far andare via Krunic e Benasser con la Coppa d'Africa noi abbiamo bisogno di un Adli in forma. Forza Rossoneri, forza!